Ben trovati anche per la pagina sportiva della TG Noi, l'apertura dedicata al basket perché è ricominciata l'avventura delle Muralucca, la stagione 2017-2018. La Coppa dello Scudetto in bella vista, il tricolore cucito sul petto, è partita così la stagione 2017-2018 della Gesam Lemura-Lucca che ha iniziato la preparazione al palatagliate. Una nuova avventura dopo la vittoria del campionato e quello Scudetto che adesso campeggia sulle maglie delle Biancorosse, un onore e un onere per un gruppo rinnovato completamente a partire dal coach Loris Barbiero. Io credo che avere lo Scudetto sia un grande orgoglio, è ovvio che non possiamo parlare di nostri meriti ma di meriti che si sono stati costruiti nel tempo dal gruppo che c'era. È ovvio che noi proveremo in tutti i modi a difenderlo, magari non siamo ancora pronti oggi per competere a quei livelli ma sicuramente daremo il 100% del nostro meglio. Fra le giocatrici presenti tutte le atlete italiane Valeria Battisodo, Federica Tognalini, Carolina Salvestrini e le nuove Federica Brunetti, Francesca Melchiori, Giuditta Nicolodi e Erika Striulli. Aggregate al gruppo le giovani delle Mura Spring, Rebecca Rapè, Francesca Belluomini e Lucia Puccini. A fine mese arriveranno a Lucca anche le tre giocatrici straniere, Binta Dramme, Poscia Roberts e Caesia Ududenko. A guidare il gruppo il capitano Martina Crippa alla sua quinta stagione in bianco-rosso che commenta così la rivoluzione estiva. Due anni fa si è ripartito completamente da zero, però è ovvio che quest'anno anche il calcio è stato un cambiamento a livello di staff tecnico, quindi sicuramente sarà anche per noi che siamo qui già da anni, è una novità anche per noi, quindi già un nuovo inizio. La squadra penso sia una squadra che dipenderà da come riusciremo a trovarci sia in campo che fuori, cercheremo come sempre di dare il massimo, penso che sia una squadra competitiva, quindi cercheremo di mettercela tutta e buttare il cuore come abbiamo sempre fatto. Dal pubblico le mura si aspetta molto, fino al 14 settembre sarà possibile abbonarsi con fortissimi sconti, all'interno del Palatagliate in orario di allenamento sarà possibile effettuare la sottoscrizione. Il calcio, nuova amichevole per la lucchese di Mister Lopez, sabato ore 16.30 al campo sportivo di Piegaio, i rossoneri affronteranno il Monte Catini, squadra che milita nel campionato di Serie D. E adesso il ciclismo, la mountain bike in maniera particolare, perché domenica 27 agosto a Santa Maria del Giudice ci sarà la quarta prova e ultima del challenge intitolato al biker Simone Pardini. Tutto pronto ormai per la gara di mountain bike Monte Faeta, secondo trofeo Memorial Simone Pardini, il biker di soli 17 anni, che due anni fa fu investito e ucciso da un camion ad Alto Pascio mentre si allenava. La gara si svolgerà domenica 27 agosto a Santa Maria del Giudice. Sarà valida come ultima prova del challenge toscana mountain bike e del challenge lucchese, primo trofeo ducato di Lucca Memorial Simone Pardini, che negli ultimi mesi ha animato tutta la provincia di Lucca nelle immagini l'apertura di Forno Volasco. Gli amici del gruppo Faeta e altri amici di Simone, i compagni di squadra della New Bike 2008 di Calenzano e il Papa Roberto hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Anche quest'anno, così come nel 2016, anno a cui si riferiscono queste immagini, La partenza sarà data dal campo sportivo di Santa Maria del Giudice e dopo aver attraversato il centro del paese, il Brennero, i corridori affronteranno la salita di San Pantaleone, arriveranno a Sant'Allago e da lì Campo di Croce, la salita per arrivare in cima a Monte Faeta. Poi, attraverso un single track in discesa molto impegnativo, si rimetteranno sulla strada bianca che le porterà fino al passo di Dante, dove andranno ad affrontare una discesa su asfalto di circa 2 chilometri che le riporterà nel centro del paese per gli ultimi 300 metri fino all'arrivo al campo sportivo. Il percorso è di 26 chilometri con un dislivello di circa 1100 metri. Per gli esordienti e allievi, percorso più corto di circa 10 chilometri, anche questo con partenza e arrivo al campo sportivo. Per il terzo anno consecutivo la Federazione Italiana Tennis, con l'organizzazione della WWBT, con il patrocinio del Comune, ha scelto Via Reggio per ospitare un campionato nazionale di beach tennis. Appuntamento dal 17 al 20 agosto allo stabilimento balneare Vittorio Veneto. Dunque quattro giornate di gara. E poi per chiudere una notizia di tennis, tennis tradizionale, perché il circolo tennis Lucca ha ospitato il torneo di quarta categoria, circuito apuo-versigliese, la vittoria di Bonini del tennis club Castelnuovo in finale contro Giannini del tennis club di Lucca. Nel doppio maschile vittoria alla coppia Magnani-Rossi del tennis club Dodo su Morrison-Puccini del tennis club di Lucca. È tutto per la pagina sportiva. Una pausa, poi la terza parte del telegiornale.